Grazie a tutti. Il numero degli assessori, intanto Danilo Leva, il segretario regionale del PD, rompe il silenzio e detta la linea del partito sull'allargamento della giunta. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Nulla di fatto in consiglio regionale sull'abrogazione della legge 21 del 2012 che poteva dare il via libera alla nomina del quinto assessore. L'Aula si è limitata ad eleggere una commissione d'indagine sui conti pubblici regionali relativi agli anni passati. Tutto il resto invece è stato rinviato a metà giugno. Tale decisione era stata assunta nell'incontro notturno al quale hanno partecipato il presidente Paolo Frattura, i vertici e i gruppi consigliari del PD. Dunque la riunione del consiglio è durata poco anche perché il governatore ha accusato un lieve malore fisico. Comunque Salvatore Ciocca ha avuto il tempo di presentare una mozione non discussa dall'Aula con la quale ha chiesto una serie di verifiche sull'azienda speciale Molise Acque e il trasferimento ad altre mansioni del direttore generale Giorgio Marone. Intanto sulla nomina del quinto assessore il segretario del PD Danilo Leva ha rotto il silenzio e ha dettato la linea del suo partito. Io credo che sia un passaggio politico delicato da affrontare con gli approfondimenti del caso. Condivido l'esigenza di rendere più efficace l'azione amministrativa. Allo stesso tempo c'è da contemperare un'esigenza che è quella di evitare che l'efficacia dell'azione amministrativa comporti un aumento dei costi della politica. Ma sul quinto assessore qual è la posizione del PD? C'è bisogno di ridurre i costi della politica. Il governo sta lavorando molto su questo campo e dobbiamo giocare anche noi su questo campo. All'interno della riduzione dei costi della politica c'è il tema dell'efficacia dell'azione amministrativa e si può fare tutto. L'importante è che non ci sia un aumento di spesa, non ci sia un aumento della spesa pubblica e questo non si ripercuota sui cittadini in una fase come questa. Tecnicamente va trovata la soluzione. C'è anche chi propone la figura del consigliere supplente in modo da sostituire momentaneamente gli assessori. Il tema è sempre quello. L'importante è che non ci sia l'aumento dei costi. Tecnicamente le soluzioni ci sono, sono già al vaglio, si stanno studiando e su quelle soluzioni poi tutto è possibile. Però nella chiarezza che dobbiamo avere verso i cittadini. Ma io penso che su questo ci sono tutte le forze politiche, nessuno escluso, all'interno della coalizione che ha sostenuto Paolo Frattura. E credo che si stia facendo un buon lavoro in consiglio in queste ore e si farà nei prossimi giorni affinché si arrivi a quella soluzione di sintesi che tiene dentro tutte queste esigenze. Primi paletti sul terreno del neosindaco di Isernia Luigi Brasiello alle prese con la formazione della nuova giunta PD e SEL chiedono quattro assessori e almeno una donna nell'esecutivo. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Giunta a quattro, a sei, a sette o ad otto, solo nove il numero massimo al momento, nessuno lo ha fatto. Se ne dicono tante sulla composizione della nuova giunta comunale dell'era Brasiello che davvero è difficile formulare qualunque previsione. Intanto però partendo dalle prese di posizione ufficiali ce ne sono almeno un paio che meritano attenzione. La prima è quella di Fabio Serricchio, candidato come indipendente nella lista di SEL, che afferma senza mezzi termini che Brasiello deve proseguire quanto fatto da De Vivo, che puntò sulle competenze e su un esecutivo snello formato solo da tecnici di provata esperienza. Per il numero quello ideale sarebbe quattro, ma l'obiettivo sembra difficile da raggiungere perché quella di Brasiello, contrariamente a De Vivo, è stata una vittoria completa e politica, come sindaco e come schieramento, quindi difficile pensare al coinvolgimento dei tecnici. Il centrosinistra Isernia vuole amministrare il comune lanciando un preciso messaggio di continuità politica con l'esperienza veneziale Caterina, circa un decennio, dal 1993 al 2002. Quindi un'aggiunta che rifletta lo schieramento di centrosinistra al completo delle sue componenti moderate, quelle che, come ricorda Mimoizzi dell'Udc, hanno consentito a Brasiello di evitare il ballottaggio per un pugno di voti. Quindi si va verso un'aggiunta multicolore o arcobaleno che sicuramente rappresenterà tutte le componenti. E a tal proposito, per i democratici, prende la parola Nicolino Colicchio, del coordinamento provinciale del PD, che chiede al suo partito di fare solo il nome di donne per gli incarichi in giunta o alla presidenza del Consiglio. Sarebbe, dice Colicchio, un notevole segnale di cambiamento. Difficile pensare però che Sposato e Amendola siano disponibili a fare un passo indietro. A Venafro invece non c'è materia del contendere. Giunta a quattro con almeno una donna, vice sindaco Alfredo Ricci. Questa per ora ha l'unica certezza. Per il resto si vedrà e anche per questo Sorbo ha deciso di prendere tutto il tempo necessario anche per l'esordio in Consiglio. Ci sarà sabato 15 giugno, mentre sabato 8 giugno grande festa della vittoria o della liberazione, come suggeriscono gli amici di Sorbo in piazza Porta Nuova, per solennizzare la conquista del comune da parte della coalizione Venafro cambia Venafro. Un caseificio molisano spacciava per prodotto italiano una mozzarella fatta con latte tedesco. Il corpo forestale di Isernia gli ha inflitto una multa di 6.000 euro. Intanto la Coldiretti ha presentato a Bruxelles il primo dossier sui rischi dei cibi low cost, tra i quali ci sono anche prodotti fortemente diffusi in Molise. Si tratta di alimenti provenienti da paesi extracomunitari nei quali l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare ha individuato residui chimici con una percentuale 5 volte superiore a quella dei prodotti dell'Unione Europea. Il senatore del Partito Democratico, Roberto Ruta, ha illustrato un progetto e ha parlato del dialogo intrapreso con Granarolo per portare la grande azienda agroalimentare proprio in Molise. L'idea è di innescare un meccanismo per risollevare le filiere in crisi e ridare slancio all'economia regionale. Sentiamo. Portare Granarolo in Molise è un'idea che potrebbe diventare realtà. Gli affari di una delle aziende leader italiane potrebbero intersecarsi con la nostra regione. Ne è convinto il senatore, capogruppo del PD nella Commissione Agricoltura, Roberto Ruta, che insieme agli assessori regionali Facciolla e Scarabeo ha incontrato i vertici proprio della Granarolo a Bologna per discutere di far approdare in Molise il progetto Granmanz. In sostanza creare un insediamento vicino la costa come richiesto su 100 ettari per ospitare mucche che rientra nell'obiettivo dell'azienda di raddoppiare il suo fatturato a un miliardo e mezzo di euro. 18 milioni di euro di investimento, 12 mila capi di bestiame che sono mucche e che possono essere allocate nella nostra regione. Queste mucche vengono, le vitelle, giovani, vengono nel Molise, stanno qui, stazionano per circa due anni, due anni e mezzo, vengono riportate poi agli allevatori nelle stalle in Italia e ovunque vengono raccolte. Questo credo che è una filiera nuova che noi organizziamo in questa regione che produce inevitabilmente un'altra attenzione di ricchezza, di occupazione, di occasione e di sviluppo per questa realtà, perché abbiamo un gruppo, probabilmente, speriamo di chiudere tutto bene, un gruppo come quello Granarolo, che può essere interessato nel Molise perché ha detto, dopo il nostro incontro, che il Molise è per loro molto appetibile e vogliono investire in questa regione. Il progetto però vede già in pole position la Puglia, ma Ruta ha prospettato alla Granarolo la realtà molisana come salutare per le mucche più vicine a Bologna. Entro il 12 giugno i vertici dell'azienda verranno in Molise a visionare i tre siti individuati. L'idea del senatore è di risollevare diverse filiere locali, della zootecnia ovviamente, quella dello zucchero facendo usare come mangime gli scarti della barbabietola, quella dell'agricoltura coinvolgendo produttori di fieno che verrebbe dato alle mucche, così come ha voluto sottolineare l'importanza della produzione di letame come fertilizzante. Ed essendo vicini alla costa, il progetto potrebbe dare spinta anche ad altri settori come la pesca produttiva. Insomma, l'idea è innescare un meccanismo per smuovere l'economia locale, ma l'asso Ruta lo ha calato coinvolgendo la Granarolo nel discorso della filiera vicola alla quale l'azienda è interessata prospettando la situazione della Solagrital. Granarolo già vende anche uova, ma è interessata a ampliare i suoi asset produttivi, anche molto interessata a quella vicenda pollo, e questo è quindi carni bianche e pollo, questo ovviamente significa per noi un'altra opportunità come quella dei prodotti di alta e altissima qualità che riguarda ovviamente la parte del Molise che riesce a produrre generi alimentari di altissima qualità come l'Alto Molise. L'amministratore delegato dello zuccherificio Alfieri ha chiesto formalmente di essere ascoltato magari in seduta monotematica in Consiglio regionale. La richiesta è stata comunicata dal Presidente dell'Assise Vincenzo Niro in conferenza dei capigruppo Alfieri intende riferire sui risultati della gestione dell'azienda e sulle prospettive di continuità dell'attività. All'unanimità la conferenza dei capigruppo ha deciso per una audizione in seconda commissione per mercoledì 12 giugno alle 16. Intanto l'assessore regionale al lavoro Michele Petraroi ha incontrato a Roma il Ministro Enrico Giovannini sul tavolo. L'emergenza lavoro in Molise con le vertenze aperte i numeri preoccupanti di cassi integrati e disoccupati. L'intervista a Petraroia e di Antonio Di Monaco. Quali sono stati gli impegni del Governo rispetto alla situazione molisana che non ha numeri molto rosei? Ho illustrato direttamente al Ministro del Lavoro Giovannini che il Molise sta vivendo una vera e propria situazione di emergenza e di allarme sociale. 28.880 giovani da 18 a 35 anni che sono disoccupati. Abbiamo 4.000 persone che hanno necessità di ammortizzatori sociali in deroga che sono praticamente terminati e servono 33 milioni di euro. c'è una situazione di allarme perché le principali aziende del Molise, dall'ITR, la Solagri, dallo Zuccherificio, ma abbiamo problemi e difficoltà anche alla Fiat se non sarà assegnato il nuovo motore. C'è la ricostruzione post terremoto dove noi abbiamo necessità di una risposta per svingolare quelle somme dal patto di stabilità. Abbiamo il problema della sanità dove da sei anni le persone escono e ci sono tanti precari o manca il personale e quindi dobbiamo farci autorizzare a superare il blocco del turnover. Su questi argomenti, insieme al Ministro del Lavoro, noi abbiamo proposto e ragionato di tenere un tavolo specifico sull'emergenza Molise presso Palazzo Chigi con il sottosegretario Patroni Griffi. E colgo questa circostanza per ringraziare il sottosegretario De Camillis ma anche il capogruppo del PDL Fusco Perrella che si sono già adoperati per le loro competenze presso la presidenza dei ministri perché si possa ragionare e discutere di Molise a quel livello per ottenere delle risposte. A causa della carenza di fondi rischia la chiusura il CEPAM di Isernia e il Centro Prevenzione e Assistenza Minori. La solidarietà da parte delle associazioni non manca ma da sola non basta garantire la sopravvivenza di una struttura che da 13 anni dà risposte importanti nella lotta al disagio sociale. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Grazie ai fondi raccolti dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati alla collaborazione di enti associazioni, il CEPAM di Isernia, la struttura che si occupa dell'accoglienza di minori che si trovano in situazioni di disagio, da oggi può offrire ai suoi assistiti computer, tv, radio e altro materiale destinato a rendere più confortevole la loro permanenza nel centro. Ma tutto questo non basta, nonostante l'ottimo lavoro svolto in questi 13 anni si rischia la chiusura per mancanza di fondi. Mi rivolgo ai nostri amministratori regionali, provinciali e comunali. Non fate morire il nostro centro perché abbiamo bisogno di fondi per poter continuare la nostra attività. Sono 13 anni che noi lavoriamo sul territorio per poter aiutare i nostri bambini, i nostri ragazzi, le nostre famiglie. Quindi abbiamo bisogno di una programmazione a lungo termine, di fondi per programmare la nostra attività e per lavorare con serenità. Non siate sordi, cercate di fare una riflessione. I nostri bambini, i nostri ragazzi, sono il seme della nostra società futura. Per cui se noi li aiutiamo in un momento di disagio, che può capitare anche se nella loro pur breve vita, potremo forse tentare di creare degli adulti migliori per una società migliore. Il primo problema si presenterà a fine giugno. Verrà infatti chiuso l'appartamento segreto che permetteva di dare rifugio alle donne vittime di violenza. La provincia farà il possibile per evitare tutto questo, ma i tagli di fondi decisi dallo Stato non aiutano. È chiaro che un ente, una struttura come il CEPAM, non può assolutamente chiudere. È altrettanto vero però che le risorse disponibili per l'amministrazione provinciale sono sempre di meno. Vanno fatte indubbiamente delle scelte, va fatta una scala di priorità e al primo posto indubbiamente vengono messi servizi come quelli offerti dal CAD e dal CEPAM. Per fortuna la solidarietà non subisce tagli. Anche quest'anno infatti Laiga riproporrà la sua manifestazione per raccogliere fondi da devolvere alle persone meno fortunate. Laiga è da sempre vicina all'associazione Onus di Sernia e anche quest'anno ci sarà la terza edizione dell'Avvocato nel pallone prevista il prossimo 8 giugno allo stadio Lancellotta di Sernia. Per cui invito tutta la cittadinanza di Sernia a partecipare acquistando i biglietti della partita di beneficenza e dando una mano a Laiga che poi ha la possibilità di aiutare quelle che sono le associazioni Onus della provincia di Sernia. L'istituzione del Parco del Matese sul versante Molisano. La richiesta arriva da Lega Ambiente che si rivolge al nuovo governo regionale invitandolo a rispettare gli impegni assunti in campagna elettorale. Il Matese rappresenta una delle principali aree naturalistiche dell'Appennino al punto che il Ministero dell'Ambiente nel Piano Nazionale per le Biodiversità ha individuato proprio il Matese come area prioritaria per la loro conservazione. Si legge in una nota dell'Associazione Ambientalista ma esso è protetto solo parzialmente da un parco regionale sul versante Campano mentre su quello Molisano la tutela è limitata a poche aree. Un parco che unisca veramente il versante Molisano a quello Campano può rappresentare occasione di rilancio per un territorio sempre più marginale rispetto alle principali direttrici di sviluppo, conclude Lega Ambiente. Il brusco calo delle temperature in prossimità della festa del Corpus Domini a Campobasso ha bloccato diversi eventi e messo in difficoltà i venditori ambulanti, soprattutto stranieri. La protezione civile regionale, aiutata dalle altre associazioni e dalla Curia, si è prontamente attivata e ha allestito una terza tenda in Piazza della Vittoria. Ma sentiamo. Oggi inizia l'estate meteorologica ma nessuno se ne è accorto. Maglioni, ombrelli e cappotti sono tornati a far bella mostra di sé nelle strade del centro di Campobasso per la festa del Corpus Domini. Ma c'è anche chi, come venditori ambulanti e soprattutto stranieri, ha patito più di tutti l'insolito calo delle temperature. La notte scorsa l'Agenzia regionale di protezione civile, che ha raccolto l'appello degli stranieri infreddoliti e senza riparo, si è subito attivata. La struttura diretta da Giuseppe Gianrusso, aiutata dagli scout e dalle associazioni di volontariato, ha dato loro riparo e conforto nelle tende allestite in Piazza della Vittoria. Le persone emigrate hanno alloggiato a fianco alla tenda dell'Eucaristia, una tenda messa lì a supporto per le attività all'atere che vengono fatte durante l'adorazione eucaristica. Visto che c'è stato questo maltempo, ha piovuto, ha fatto freddo e continua a fare freddo, ci è sembrato giusto almeno aprire le porte anche a persone un po' disagiate. Ma la protezione civile è già pronta per affrontare l'emergenza di questa notte. Loro sono abituati a dormire nelle macchine, ma il tempo come sta andando, giustamente non hanno resistito a queste temperature. E di conseguenza hanno trovato il loro riparo grazie alle nostre tende che abbiamo montato. E avete montato anche una terza tenda, a quanto sembra? Sì, perché praticamente dal numero che è stato descritto ieri sera, oggi invece si è raddoppiato, che si depanno intorno alle 60 persone. E quindi il nostro dirigente ci ha comunicato di montare un'ulteriore tenda per ospitare anche gli altri. Ma domani che tempo farà in vista della processione dei misteri? Da quello che si dice dovrebbe migliorare. Comunque la fase cruciale è quella di stasera, insomma, di stanotte fino a domani mattina. Poi la provvidenza mette in mano. E il maltempo ha rovinato l'infiorata e impedito l'uscita della processione della Madonna dei Monti. A Campobasso intanto domani la sfilata dei misteri in diretta su Telemolise. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. La pioggia e il vento che si sono abbattuti su Campobasso hanno vanificato il lavoro di centinaia di persone all'opera per realizzare la tradizionale infiorata, il tapeto di petali di fiori, che dai monti si snoda lungo le principali vie del centro storico e quelle della città. La pioggia torrenziale ha infatti spazzato via tutto, lasciando sull'asfalto solo le tracce degli sforzi dei tanti volontari. Tutto rovinato dunque, compresa la processione che è stata rinviata al prossimo 5 giugno, così come è stata rinviata al 9 giugno la tappa molisana di Miss Italia, legata proprio alla festa dei misteri per eleggere Miss Donzella. Tanta la delusione della gente che sotto gli ombrelli si era assiepata con la speranza di poter ammirare quella che è una vera e propria opera d'arte. La Madonna abbagnata ci porta fortuna, come si dice, sposa abbagnata, sposa fortunata. Madonna abbagnata, Madonna fortunata. È vero o no? Poi noi molisani siamo abituati a queste temperature ostili e piano piano lo facciamo uscire lo stesso. Quello ci perdona, il padre eterno ci fa piovere. Che dobbiamo fare? Intanto i festeggiamenti per il Corpus Domini stanno per entrare nel vivo. Domani mattina l'attesa sfilata dei misteri. I 13 ingegni realizzati dalla Dizzinno alla fine del Settecento, solo l'ultimo risale agli anni Cinquanta, attraverseranno le principali vie della città, partendo dal Museo dei Misteri in via Trento, per poi fermarsi davanti al municipio per la benedizione finale. Telemolise, con le postazioni di propri giornalisti dislocati su diversi punti del percorso, seguirà in diretta a partire dalle 9.25 l'intera manifestazione. I festeggiamenti si concluderanno domani sera con l'evento Clou, il concerto di Gio di Tonno previsto alle ore 21 in Piazza Pepe. L'arcivescovo di Campobasso Giancarlo Bregantini ha inviato un messaggio alla città in vista della festa del Corpus Domini. Di domani la nostra città ha detto ha tanto bisogno di amicizia, è bello vedere, ha aggiunto Bregantini, che anche quest'anno accanto alla tenda dell'Eucarestia ci sia la tenda dell'accoglienza, specie per gli immigrati. La processione dei misteri, sempre affascinante nella sua forza vitale, ha concluso l'arcivescovo, ci sia di stimolo per una vita fraterna e un'amicizia leale. È originario di Montenero di Bisaccia il magistrato Giovanni Spinosa, titolare delle indagini sui crimini della Uno Bianca, consumati in Emilia-Romagna tra il 1987 e il 1994. E proprio in paese è stato presentato il suo nuovo libro dedicato ai tragici eventi, che oggi offre una chiave di lettura critica rispetto a quanto accaduto proprio in quegli anni. Sentiamo Fabrizio Occhio Nero. Un pezzo di storia liquidato e dimenticato troppo presto, che si congiunge ai momenti drammatici delle vicende del paese. Una strage errate, la definisce Giovanni Spinosa, il magistrato che ha seguito le indagini sui crimini della Uno Bianca, è una storia politica e di mafia ancora tutta da raccontare. e osserva nel suo libro presentato a Montenero di Bisaccia, paese della sua infanzia, un volume dove ha voluto ricostruire i fatti, rispolverando eventi, dati, testimonianze ed elementi non considerati. Occasione per riflettere davanti a un pubblico di professionisti e cittadini attento e numeroso su una realtà processuale che non sempre si è detto ha coinciso con quella storica. 82 imprese criminali, 22 omicidi e oltre 100 feriti, ma Spinosa, al di là dei freddi numeri, chiama le vittime per nome. Ognuno di loro aveva una storia e va rispettato sempre, ha detto, anche chi ha strappato i capelli al suo assassino, ma il test del DNA non coincide con chi è stato condannato, ambiguità che non riguardano solo i fratelli Savi, ma tanti altri aspetti delle vicende interpretati così da Spinosa, oggi presidente del Tribunale di Teramo. L'84 Cosa Nostra mette le sue bombe sul treno, sul rapido di Natale e passa per vari momenti di cui la Uno Bianca è una di queste tappe. Hanno strumentalizzato e utilizzato bande di criminalità locali attraverso collegamenti correttamente mediati, correttamente ovviamente nell'ottica di Cosa Nostra, per creare e diffondere una situazione di instabilità e di paura in tutto il Paese. All'incontro sono intervenuti il sindaco Nicola Travaglini, Antonio De Michele, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Larino e Domenico Porfido, presidente del Consiglio Comunale. Il giudice Roberto Veneziano, per oltre dieci anni impegnato in Molise, ha curato l'intervento introduttivo. Il presidente Spinosa ha spiegato non ha voluto fare il quarto grado del processo, ma ha rotto un silenzio che durava da anni. Fa comprendere quante verità non sono state adeguatamente studiate, perché la realtà processuale è una realtà limitata. La realtà storica sovraintende ad un'altra dimensione quei fatti ed offre spunti per chiedersi una serie di perché cui purtroppo finora ancora nessuno ha saputo dare risposta. L'incontro è stato moderato da Teresio Di Pietro. Mi sembrava doveroso, per un problema più che di Montenero, per il Molise, dare omaggio a questo illustre concittadino che ha scritto una pagina di storia della criminalità italiana. 15 persone, tutte provenienti dalla zona di Napoli, sono state denunciate dagli agenti della Polizia Stradale di Campobasso, diretti dal vicequestore aggiunto Daniela Salvemini. Avrebbero messo in atto un sistema che, attraverso falsi certificati di residenza e false dichiarazioni, consentiva a loro di ottenere l'aggiornamento delle banche dati del Pride della motorizzazione, quindi il rilascio di una nuova carta di circolazione contenente false informazioni. Attraverso il nuovo documento, il proprietario del veicolo poteva sottoscrivere polizze a condizioni vantaggiose, eludendo l'addebito delle proprie responsabilità in relazione alle violazioni del codice della strada. Il meglio del sole del funky internazionale in scena al Blue Note di Ripa Limosani con gli Shaolin Temple Defenders che si sono esibiti nell'ambito della rassegna Campobasso Soul Beat Festival organizzata dall'associazione Via Nova. Sentiamo. Chiudendo gli occhi e ascoltando la musica degli Shaolin Temple Defenders sembra di essere immersi nella suggestiva atmosfera di un club di New Orleans e la mente va a James Brown o a Wilson Pickett al grande Blues Soul Funky, un gruppo dove la voce di Brother Lion acquista ancora più spessore, mescolata e sostenuta dai virtuosismi del resto della band. I rimandi alle sonorità degli anni 70 sono evidenti e invitano a seguire il ritmo con il corpo. Una volta aperti gli occhi ci si rende conto che sia in Molise al Blue Note di Ripa Limosani per uno degli appuntamenti del Campobasso Soul Beat Festival organizzato dall'associazione Via Nova e sul pacco vi è una delle band più apprezzate nel panorama internazionale che è appunto gli Shaolin Temple Defenders. Il nome è ispirato praticamente ai film di Kung Fu degli anni 70 e loro si vogliono rifare a questi film proprio per essere come loro dei difensori del tempio ma in questo caso del soul, della musica soul. Quindi sono dei guerrieri che combattono per difendere con tutte le armi possibili che sono chiaramente i loro strumenti il tempio del soul. Blues, soul, funky in cui l'arricchimento e l'evoluzione diventano la caratteristica della musica degli Shaolin Temple Defenders il classico che si amalgama con il moderno l'incontro di America ed Europa nella congiunzione tra la scena musicale di Bordeaux dove la band si è formata e quella statunitense. Dieci anni di tournée, 60 concerti e produzioni discografiche e quattro album, l'ultimo From the Inside grandi collaborazioni nel campo del funky e con leggende del blues e del soul. Nell'album si ritrovano proprio gli elementi fondanti della soul music molto soulful da questo punto di vista perché è introspettivo in un senso e quindi riflette quello che è il dolore interiore di una fase personale della propria vita e allo stesso tempo vuole essere anche un messaggio assolutamente positivo felice e una riflessione dall'interiore di quelli che sono stati gli ultimi dieci anni per gli Shaolin Temple Defenders. Prima del concerto degustazioni con le specialità create dagli chef della Molisana accompagnate da vini di cantine molisane. A conclusione dell'anno scolastico l'Istituto Manu Pella di Iserni ha organizzato una mostra di arte contemporanea il tema ha scelto quello della libertà. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Al termine di un anno intenso fatto di progetti e di viaggi istruttivi in Italia e all'estero gli alunni del liceo artistico di Iserni hanno messo a frutto le varie esperienze maturate allestendo una mostra di arte contemporanea nel centro storico nella sede dell'Università del Molise è stata dedicata al tema della libertà. Chiudiamo un anno culturale intenso abbiamo voluto questa mostra all'università proprio ad esprimere la valenza dell'arte dell'arte che di cui è pregna la scuola l'Istituto d'Arte di Isernia. Sicuramente vuole mettere in evidenza la libertà che dà l'arte. L'arte che libera la creatività dei giovani l'arte che dà ai giovani la possibilità di un arricchimento interiore laddove la logica ci chiude e ci evita di entrare in pieno contatto con la realtà. Qual è la valenza di questa mostra? I prototipi sicuramente, i manufatti dei ragazzi ma soprattutto ciò che c'è dietro al manufatto cioè l'osservazione, la immaginazione, la ricerca culturale e quindi la capacità di critica di selezione di tutto ciò che serve perché ciò che si realizza abbia una valenza importante e universale. Tra le novità di quest'anno proposte dall'Istituto Manupella una mascotte dedicata alla città di Isernia. Si chiama Isidoro abbiamo scelto questo nome perché Is, Isernia Doro, la città di Isernia è nata da una progettazione fatta un po' dal professore Brangi dalla preside, abbiamo avuto l'approvazione è nata questa mascotte di Isernia. È tutto, termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci.